Mi trovo a Perito presso la sede della Proloco per incontrare il consigliere comunale, nonché consigliere anche della Proloco Perito, il signor Andorello Marcelli, il quale ci parlerà delle tante iniziative che si terranno nel periodo natalizio proprio qui a Perito. Perito come Proloco dall'8 dicembre fino al 30 dicembre ci saranno una serie di eventi che entrano in un programma dal titolo Paese Natale. La manifestazione centrale si svolgerà il 28, il 29 e il 30 dicembre che è la prima edizione di Strafocara, una manifestazione gastronomica che si svolgerà nella piazza principale del paese, Piazza della Vittoria, dove saranno presenti degli stand che proporranno piatti della tradizione, nonché anche della tradizione natalizia. Mentre dall'8 dicembre, come ho detto prima, iniziamo una serie di eventi legati al Natale, quindi l'installazione del presepe delle luminarie, il 24 di dicembre la visita di Babbo Natale ai bambini nelle case, il 26 di dicembre il torneo di Briscola, ormai diventato tradizionale qui a Perito, e il 31 di dicembre il ceppo di fine anno, quindi aspetteremo il nuovo anno insieme nella piazza principale. E il 5 di gennaio, la sera della Befana, ci sarà la visita della Befana nelle case dei bambini. Tante sono le iniziative che terrete qui a Perito come proloco e anche con il patrocinio del comune di Perito, ma l'evento principale, quello clue, è il Strafocara. Sì, sicuramente innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Carlo Cirillo per l'aiuto che ci ha fornito, però come hai detto tu, l'evento principale sarà Strafocara, appunto questa prima edizione, una nuova manifestazione che si aggiunge già alle ben note Festa nel Bosco ad agosto e Perito Olive, che è transitata nel periodo primaverile, quindi ad aprile quest'anno. e Strafocara è una nuova proposta, cercheremo di valorizzare, di riscoprire un po' quelli che erano i piatti della tradizione invernale, della tradizione legata alle feste di Natale, sperando di riuscire a catturare nuovamente l'attenzione degli avventori, come già facciamo da diversi anni per la Festa nel Bosco e per Perito Olive. E diciamo che appunto è al posto di Perito Olive, ci saranno anche degli artisti, velocemente ce li puoi legare. Sì, allora avremo il piacere di ospitare Domenico Monaco il 28, l'Export il 29 e Angelo Loia in chiusura il 30 di dicembre. Quindi non mi resta che dare appuntamento con Antonello a Perito per tutte queste bellissime iniziative, vi ricordo in maniera particolare Strafocara il 28, 29 e 30 di dicembre. Grazie a tutti.